Vivere la natura incontaminata delle colline di Ecireale, con una magnifica vista della costa ionica e dell'imponente Etna. Respirare le atmosfere antiche di una storica dimora signorile, totalmente rinnovata e dotata di ogni servizio. Immergersi nel verde e nei fiori, lasciandosi cullare dallo zampillio delle fontane. Lasciarsi guidare da personale altamente qualificato e specializzato nella gestione di eventi. Gustare ottimi piatti immersi in un'atmosfera unica. Tutto questo è il Parco Certosa dei Cavalieri, la location di ogni giorno speciale.